Con qualche difficoltà, fra le polemiche ma anche con l'entusiasmo di docenti, dirigenti e alunni, prendono avvio proprio in questi giorni le attività del piano estate promosso dal Ministero dell'Istruzione. Lo stanziamento complessivo è notevole, si parla di più di mezzo miliardo di euro che potrà essere speso anche per tutto il 2021-2022. Soldi con cui si potranno attivare percorsi di recupero degli apprendimenti, soprattutto a partire da settembre prossimo, ma anche progetti e iniziative per favorire la ripresa della socialità già durante il periodo estivo. Ed è su questa seconda tipologia di progetti che si appuntano molte critiche. Per esempio c'è chi sostiene che in tal modo la scuola, anziché trasmettere conoscenze si limita a svolgere una generica funzione sociale di accudimento e intrattenimento. Per la verità questa ci sembra una critica molto debole per svariate ragioni, la più importante è di natura pedagogica. La scuola del Novecento che molti di noi hanno conosciuto è stata certamente quella della lezione e dei banchi allineati davanti alla lavagna, ma è stata anche quella di frenè e per venire a casa nostra di Mario Lodi, Bruno Ciari, dove l'ambiente era il punto di partenza per le attività di ricerca e di studio e dove si imparava a scrivere non per una necessità astratta di conoscere la lingua italiana, ma per poter concretamente comunicare con classi lontane. Ed è stata anche la scuola di Don Milani, dove si leggeva la Costituzione e si faceva ricerca sociale intervistando gli operai e i contadini del territorio. C'è poi chi protesta perché durante l'estate saranno di fatto soggetti esterni, cooperative e associazioni in particolare, ad occuparsi della organizzazione delle attività. Si tratta di una osservazione pertinente, ma l'antidoto, per così dire, dovrebbe essere quello di una progettazione integrata o almeno coordinata fra scuola, enti locali e terzo settore. Come peraltro era previsto fin dall'inizio, quando si parlava di un accordo quadro a livello nazionale fra tutti i soggetti. Ma purtroppo in questa direzione è stato fatto poco ed è un peccato perché proprio lavorando in quest'ottica, come osserva Massimo Nutini, consulente del Lanci, si potrebbe costruire un progetto non episodico da riproporre e far crescere anche nei prossimi anni. Prefigurando così una più ampia trasformazione del sistema formativo ed un più ampio ruolo centrale della scuola e degli enti locali assieme. Comunque, in molte realtà, soprattutto nelle scuole del primo ciclo, si stanno organizzando attività interessanti basate proprio sulla esplorazione dell'ambiente e sulla conoscenza dei beni culturali, storici, artistici del territorio e, come si sa, conoscere il proprio ambiente è il primo passo per imparare ad amarlo, a rispettarlo e a tutelarlo. Sul tema del piano estate continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it, scriveteci, mandateci i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie. Grazie. Grazie.